Ci sarebbero dissidi per questioni economiche dietro l'omicidio di Salvatore Lupo a Favara in Sicilia. L'uomo ucciso ieri sera con tre colpi di pistola davanti ad un bar. Giuseppe Lavegna. Anche i carabinieri mi hanno chiesto. A mezzanotte ho trovato il vicino. Questo vicino di casa era in campagna al momento dell'omicidio, non ha visto niente, ma secondo i carabinieri tanti altri erano davanti al bar quando il killer è entrato, ha volto scoperto e ha sparato contro Salvatore Lupo. Eppure nessuno ha fornito un solo elemento utile alle indagini e un continuo non so, non c'ero. Il muro di omertà, spiegano gli investigatori, rischia di compromettere le indagini. L'ex sindaco si rivolge ai suoi concittadini. Noi vogliamo lanciare un messaggio. Chiunque abbia visto di potersi confrontare con le autorità anche in maniera anonima perché in questo momento veramente ogni dettaglio può essere prezioso. Tre colpi di pistola, un'esecuzione. Eppure chi indaga è convinto che non siano state le cosche a sparare. 45 anni, imprenditore con la passione per la politica, Lupo in poco tempo aveva raggiunto la carica di presidente del Consiglio Comunale. Il fronte politico è quello giudiziario. Indagini e arresti nel 2017 era stato accusato di estorsione ai dipendenti della sua cooperativa. Tre anni dopo il suo nome era finito nell'inchiesta per maltrattamenti ai minori con problemi psichiatrici. La pista economica è quella privilegiata ma non si esclude la vendetta di qualcuno che avrebbe assoldato il killer per eliminarlo.